Invenzioni tecnologiche Alzarsi non è mai facile, ma grazie a Bixi un gesto è per spegnere la tua sveglia. Questo è solo l'inizio, con lui puoi controllare tutti gli apparecchi collegati con un semplice gesto. Non hai più bisogno di raggiungere lo strumento per poter interagire con lui. Facendo cose per cui semplicemente non puoi toccare lo strumento. Proprio così, ogni volta che puoi fare tante cose assieme, Bixi ti può aiutare. È facile, semplice e intuitivo. Più di un anno fa abbiamo avuto un'idea, creare bellissimi e coinvolgenti filmati senza costosi strumenti. Quest'idea divenne Jimballs. Attaccabile a qualsiasi smartphone per trasformare immagini traballanti in morbide e dinamiche riprese. Abbiamo progettato Jimballs in modo che chiunque potesse usarlo, ma con caratteristiche che anche i professionisti possono apprezzare. Dando a tutti la potenzialità di esprimere se stessi come non mai. A presto. 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 Grazie a tutti. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale.